7.18, 7.37 contrari, come pure al 7.43 Artini e al 7.44 Toninelli. 7.32, anche qui è un parere favorevole perché ci preoccupiamo della incidenza del vantaggio economico su una ristretta categoria e chiediamo la soppressione di questa parte. 7.7 Costantino, 7.110 pareri contrari, 7.23 contrario, 7.112 contrario, come pure al 7.114, 7.115 riformulato perché riteniamo che non sia ben specificata la materia della impugnativa nei soggetti che anche dagli atti individuali possano aver avuto un pregiudizio o un vantaggio. Si parla di scadenza del termine di cui è il periodo precedente senza individuare le modalità di comunicazione ai soggetti e la decorrenza della impugnativa. 7.45, parere contrario. Grazie. Onorevole Costantino, 7.17 Fraccaro. Ci rimettiamo all'Aula. 7.20, 40, favorevole. 7.22 Fraccaro, identico, 7.102 da Torre, favorevole. 7.21 Scotto, favorevole. 7.6 Costantino, favorevole. 7.33 Centemero, 7.33? Sì, è Sisto, scusi. Contrario. 7.28 Sisto, contrario. 7.46 Costantino, favorevole. 7.8 Parisi, 7.30 Sisto, contrario. 0.7.400.1 Sisto, contrario. 7.400 della Commissione, favorevole. 7.34 Centemero, no. 7.34 pagina 11? Sì, contrario. Sì, contrario. 7.105 Gasparini, ci rimettiamo all'Aula. 7.5 Costantino, favorevole. 7.18 D'Ambrosio, identico, 7.37 Scotto, favorevole. 7.43 Artini, favorevole. 7.44 Toninelli, ci rimettiamo all'Aula. 7.32 Centemero, contrario. 7.7 Costantino, favorevole. 7.110 D'Ambrosio, favorevole. 7.23 Fraccaro, favorevole. 7.112 Scotto, favorevole. 7.114 e 7.115 come riformulati. Ci rimettiamo all'Aula. e 7.45 Artini, favorevole. Grazie. Allora, passiamo all'esame e ai voti. Scusi, Scott, onorevole sottosegretario. Prego, Scalfarotti. Grazie, Presidente. I pareri del Governo sono conformi a quelli del relatore di maggioranza, onorevole Sanna. Grazie, sottosegretario. Allora, 7.17 Fraccaro, parere contrario. Commissione, Governo e Relatore Forza Italia. Favorevole, Relatore 5 Stelle. Si rimetta all'Aula la Relatrice. Sì, è aperta la votazione. Blasina. Montroni. Giuditta Pini. Tinagli. Giud Grazie a tutti.